In questi giorni si è fatto un gran parlare del tema della vicepresidenza del Consiglio dei Ministri e si è detto che la trattativa si era bloccata perché c'era questa questione in ballo. Ma non è vero, tant'è che sono andati avanti i tavoli per la stesura del programma. Il concetto era molto semplice. Giuseppe Conte è un Premier Super Partes. Per questa ragione, se ci fosse stato un vicepremier del PD, era giusto ci fosse anche un vicepremier del Movimento 5 Stelle, così che PD e Movimento 5 Stelle avessero pari rappresentanza. Abbiamo saputo che il PD ha fatto un passo indietro rinunciando al suo vicepremier e quindi il problema non esiste più. Se ci avessero ripensato prima non ci sarebbe stato neanche questo inutile dibattito.